ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video abbiamo parlato di tutti gli operatori mobili bene o male nei video precedenti ma non abbiamo mai fatto un focus per quanto riguarda poste mobile voglio proporvi una offerta decisamente interessante che si chiama creami relax 100 allora cosa prevede questa offerta abbiamo i crediti illimitati ossia tradotto in un linguaggio molto più semplice minuti illimitati poi abbiamo 80 giga al mese che dopo un anno insieme i giga diventano 100 cioè vuol dire che dopo appena trascorso un anno tenendovi sempre poste mobili arriviamo a 100 giga il costo mensile varia anche questo per i primi tre rinnovi quindi per i primi tre mesi 10 euro al mese dal quarto al sesto rinnovo quindi al sesto mese 9 euro al mese dal settimo e per tutti gli altri rinnovi scende a 8 euro quindi praticamente ci andiamo a trovare a 8 euro esattamente dopo un anno 100 giga disponibili con minuti ed sms illimitati un'altra delle cose interessanti è quello che tutti i servizi inclusi senza costi aggiuntivi zero vincoli ovviamente navigazione o spot inclusa rete e copertura la rete 4g sino a 150 megabit per secondo ovviamente è un dato notevole per essere diciamo un operatore virtuale 150 megabit per secondo non sono sicuramente pochi sono decisamente tanti per essere un virtuale io direi che anche anche per questo operatore ci possiamo fare un bel pensierino sopra trovo l'offerta decisamente interessante spero che lo sia anche per voi io vi ringrazio per l'attenzione vi chiedo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto è molto importante cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda gli operatori immobili in italia io vi ringrazio per l'attenzione un abbraccio a giuseppe grazie a tutti grazie a tutti